rivolgiamoci alla parola del signore luca capitolo 22 dal verso 54 poi nel corso della predicazione chiaramente faremo riferimento anche ad altri passi della parola di dio luca 22 dal verso 54 così leggiamo dopo averlo arrestato lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote e pietro seguiva la lontano essi accesero un fuoco in mezzo al cortile sedendovi intorno pietro si sedette in mezzo a loro una serva vedendolo seduto presso il fuoco lo guardò fisso e disse anche costui era con lui ma egli negò dicendo donna non lo conosco e poco dopo un altro lo vide e disse anche tu sei di quelli ma pietro rispose no uomo non lo sono trascorsa circa un'ora un altro insisteva dicendo certo anche questi era con lui poiché è galileo ma pietro disse uomo io non so quello che dici e subito mentre parlava ancora un gallo cantò e il signore voltatosi guardò pietro e pietro si ricordò della parola che il signore gli aveva detto oggi prima che il gallo canti tu mi rinegherai tre volte è andato fuori pietro pianse amaramente questa caduta di pietro che procurò questa grande amarezza è riportato è riportata da tutti e quattro gli evangeli tutti e quattro gli evangeli si soffermano su questo aspetto e non credo che l'abbiano fatto gli scrittori per mettere in luce la debolezza di pietro ma per darci un insegnamento invece che a noi può essere di grande utilità e di grande conforto sapete uno degli insegnamenti che ci vengono dalla parola di dio è che dovremmo imparare da gli errori degli altri è tanto importante sapete vero è che imparare dai nostri errori imprime più profondamente l'insegnamento ma è bene per evitare il dolore delle cadute imparare dagli errori degli altri e nella caduta di pietro in questo triste evento noi noi riceviamo qualcosa di molto importante di confortante perché ma perché come è scritto nello stesso capitolo qualche paragrafo avanti gesù preannuncia la caduta di pietro infatti eh negli nei versi eh ultimi noi abbiamo letto no e pietro si ricordò di quello che gli aveva detto il signore riguardo la sua caduta riguardo il fatto che sarebbe stato infedele e avrebbe negato di conoscere il signore lui che poco prima aveva detto sono pronto a morire per te sono pronto a andare in prigione ma non ti abbandonerò non ti sarò infedele eppure è caduto ora partiamo da questo aspetto quando pietro disse al signore che sarebbe morto per lui e che sarebbe andato in prigione per lui pietro non stava mentendo si stava solo sbagliando cosa intendo dire intendo dire che pietro credeva a quello che stava dicendo è in cor suo in realtà avrebbe voluto essere fedele ma sapete le virtù non si improvvisano le ricchezze spirituali non le possiamo tirare fuori dal nostro cuore se prima qualcun altro non ve le apposte e quel qualcun altro è dio stesso e pietro commise questo errore e questo fu il primo di una lunga serie di illudersi cioè di non riconoscere come già il signore gli aveva insegnato in precedenza e matteo 5 lo riporta beati i poveri in spirito cioè beati coloro che sanno riconoscere le proprie debolezze beati coloro che hanno un concetto sobrio di se stessi e che riescono a vedere con lucidità la realtà che è nel proprio cuore fratelli il signore giusù ha rivolto la sua attenzione verso di noi e lo ha fatto con una cura e un amore perfetti ma egli non ci ha risparmiato dal descrivere ciò che siamo e l'apostolo paolo a questo riguardo dice parlando di se stesso in me vale a dire nella mia carne non abita alcun bene ma lo spirito di dio lo spirito di dio sì che è capace di trarre luce dalle tenebre lo spirito di dio sì che è capace di arricchire i cuori no beati gli affamati e gli assetati di giustizia perché saranno saziati e dissetati beati coloro cioè che scoprendo le proprie miserie gridano in preghiera a dio perché perché le virtù scendano dal cielo perché in noi non ci sono virtù ma dio è ricco nell'elargirle e infatti dal primo errore che pietro commise cioè di non avere una visione sobria di se stesso passiamo al secondo errore che fu quello che determinò in realtà la sua caduta lo leggiamo sempre nello stesso capitolo gesù prese con sé i tre soliti e li portò in disparte e disse pregate con me il momento è duro li aveva avvertiti e aveva loro detto voi siete andati a evangelizzare non avete avuto bisogno né di borsa né di sacca né di mantello ma ora vi dico i tempi si fanno difficili preparatevi perché la lotta sarà dura e dopo aver detto questo chiamati a sé pietro giacomo e giovanni gli disse venite con me e pregate con me e gesù spese un lunghissimo tempo in preghiera e più volte tornò ai suoi invitandoli a continuare a pregare ma essi anziché pregare dormivano e il signore li avvertì e gli disse bene lo spirito sono pronto morirò per te andrò in prigione per te ma la carne è debole e qui è un insegnamento importante per me e per voi noi siamo deboli ma abbiamo una fonte a cui attingere e la fonte è la preghiera sapete la preghiera è un luogo meraviglioso questo deve essere nella nostra mente la preghiera un luogo un luogo dove tu entri e trovi già il signore lì che ti attende e in quel luogo avvengono i miracoli più straordinari in quel luogo ciò che non c'è appare ciò che è debole diventa forte ciò che è morto torna in vita ciò che è malato guarisce e ciò che è privo di virtù viene arricchito dalle virtù del signore stesso ricordate quello che è l'insegnamento che l'apostolo riporta nella lettera ai corinzi quando dice contemplando avvolto scoperto come in uno specchio la gloria del signore siamo trasformati non siamo noi che possiamo cambiare le nostre debolezze in virtù ma colui che è il santo e il perfetto può farlo ecco perché il signore aveva detto a pietro e a giovanni che purano quei due che l'avrebbero seguito poi nel nella corte del sommo sacerdote e probabilmente anche giacomo che avrebbe affrontato per primo la durezza della persecuzione venite perché voi avete bisogno di pregare voi più degli altri avete bisogno che le virtù dal cielo scendano su voi e coprano le vostre debolezze rendendovi forti ora è vero la parola di dio dice che siamo poveri in spirito ma non si ferma a questo non si ferma a questo egli dice venite a me voi tutti che siete assetati venite bevete e l'acqua che io vi darò diventerà fiumi d'acqua viva che sgorga dal vostro seno è vero possiamo essere deboli aridi ma dio non ci ha destinati a rimanere così al contrario egli è colui che sa far sgorgare dal deserto fonti d'acqua viva e tu e dio non siamo condannati o inchiodati dalla nostra debolezza non siamo condannati a rimanere ciò che siamo nessuno di noi si rassegni nella propria condizione poiché dio è colui che rende ricchi ma quello che dobbiamo comprendere è che è lui che trasforma è lui che opera e sapete in questo brano c'è qualcosa di glorioso e solo luca che riporta questo aspetto di questo evento tutti e quattro gli evangeli riportano questo evento ma solo luca riporta questo e il signore voltatosi guardò pietro ora immaginate questo gesù è arrestato ed è dinanzi al dinanzi al sommo sacerdote che lo interroga assieme alle guardie agli altri lì radunati accusandolo di mille cose tutti sono lì verrà schiaffeggiato anche dal da uno delle guardie stanno lì e sono tutti contro di lui ma nel momento in cui pietro cade egli dimentica ogni cosa che sta accadendo a lui e volge lo sguardo verso colui che è caduto il signore non distoglie lo sguardo da noi quando cadiamo il diavolo vuole farci sembrare questo vero no nelle nostre cadute ci accusa e ci dice oh dimenticalo ormai il signore ha volto lo sguardo altrove a causa del tuo peccato egli si è dimenticato di te non dovevi fare questo ma qui qui è il contrario colui che cade ha maggior bisogno del suo signore e proprio nel momento in cui pietro cade nel momento in cui sa che egli si ricorderà a causa del canto del gallo della sua caduta gesù volge lo sguardo verso di lui e rimarrà lo sguardo di cristo su lui infatti noi leggeremo poi nel capitolo 21 di giovanni che gesù apparirà dopo la sua morte e resurrezione ai discepoli che stavano pescando lui in riva al mare li inviterà a portare del pesce offrirà lui la colazione e si rivolgerà a pietro gli porrà per tre volte la domanda mi ami tu e con la solita inruenza pietro risponde ma la terza volta si calma e deve dire tu sai tu sai misurare il mio amore io non lo so ho misurato la mia fedeltà ho misurato la mia forza quando ti ho detto che ti sarei stato fedele e ho fallito tu sai ogni cosa e quando pietro si arrende e viene accolto di nuovo da gesù gesù gli fa quella rivelazione che a tratti potrebbe sembrare sconvolgente quando gli dice in verità in verità ti dico che quando eri più giovani ti cingevi da solo e andavi dove volevi ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato dio detto questo gli disse seguimi non so se afferrate qual è il grande significato di questo pietro cade ma questo non è sufficiente perché gesù distolga lo sguardo da lui anzi al contrario questo richiama lo sguardo del signore che rimane su di lui gesù stesso andrà lo cercherà apparirà a lui e lo riabiliterà e gli dirà pietro ti ricordi quando mi dicesti che saresti morto per me ti ricordi che cosa hai fatto sei caduto miseramente ma non ti preoccupare tu seguimi e io ti dico che se mi seguirai e starai vicino a me quando sarai vecchio dopo che mi avrai servito tu sarai in grado di mantenere quella promessa che un giorno hai mancato tu morirai per me perché allora io avrò formato in te quel carattere che sarà reso capace di rimanere fedele fino alla morte questo ci insegna fratelli sorelle che noi non dobbiamo scoraggiarci al motivo delle nostre debolezze ma dobbiamo piuttosto fortificarci a motivo della fedeltà e della potenza di dio il quale come è scritto in corinzi il quale è capace di prendere ciò che non ha valore infatti egli dice dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate anzi le cose che non sono per ridurre al niente le cose che sono perché nessuno si vanti dinanzi a dio dio ha scelto le cose deboli e se ti senti insufficiente se ti senti incapace se ti senti così fragile da non riuscire a resistere se ti senti nulla ecco tu sei il candidato migliore per essere scelto da dio perché dio vuole glorificare nella tua debolezza la sua perfezione e la sua santità la sua forza e la sua gloria questo è quello che dio fa e quindi 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 si incoraggiato fratello si incoraggiato sorella perché dio non abbandona il suo proposito a causa della tua caduta perché perché se noi siamo infedeli dio rimane fedele perché egli non può rinnegare se stesso ed egli è capace di portare a compimento il piano che ha stabilito per te e per me dio non t'ha scelto a causa delle tua della tua forza dio non t'ha scelto a causa delle tue virtù tu non hai attratto lo sguardo di dio per la tua gloria e il tuo bisogno che ha attratto lo sguardo di dio poiché egli è venuto per i malati e non per i sani è venuto per i deboli e non per i forti è venuto per i peccatori e non per i giusti ed è venuto a raggiungere coloro che sono poveri nello spirito per non lasciarli più così il diavolo lo so che ci accusa a causa della povertà del nostro spirito ma dio invece giunge a noi e ci proclama beati a causa della nostra povertà perché se sappiamo riconoscerla se sappiamo anche piangere sulla nostra povertà ma se sappiamo essere anche capaci di essere affamati assetati della giustizia di dio allora la povertà sarà tolta per far spazio alla ricchezza spirituale che dio saprà porre in te sì è vero pietro è caduto ma quale strumento nelle mani di dio quale potenza pietro manifestò quale gloria dio manifestò attraverso di lui guarigioni risurrezioni predicazioni in grado di convertire tremila persone chi era che fece tutto questo quale fu lo strumento che dio usò per operare tutto questo quello stesso che era accaduto ed era stato infedele perché il proposito di dio rimane fermo e la tua debolezza non lo spegnerà poiché niente può impedire a dio di raggiungere e di portare a compimento un suo piano e tu sei entrato nel piano di dio tu sei entrata nel piano di dio nel momento in cui dio ha posto lo sguardo su di te e proprio mentre pietro cadeva lo sguardo di cristo si volse su di lui e rimase su lui per rialzarlo e per farne uno strumento per la sua gloria si pietro è caduto ma pietro è colui che si alzò in piedi sull'alto solaio e ripieno dello spirito santo predicò e piegò con la sua parola unta dallo spirito il cuore di tremila persone si cadde cadde rovinosamente ma fu lui che disse allo zoppo al paralitico alzati fu lui che piegò le ginocchia dinanzi a un corpo morto e udendo il consiglio di dio si alzò in piedi e risollevò quel corpo morto rivedendolo tornare in vita dio ha scelto le cose deboli dio ha scelto le cose che non sono per glorificare il suo nome e sapete questo per me mi è di grande incoraggiamento mi dispiace per pietro che sia stato così ripetuto il suo la sua caduta in tutti gli evangeli ma sono contento perché io ne avevo bisogno perché ogni volta che la mia debolezza mi urla contro so ora che lo sguardo di gesù si volge verso di me per rialzarmi e questo non lo fa solo con me ma lo fa con tutti coloro che sperano non in se stessi ma nella forza di dio sia benedetto il nome del signore chieniamo il capo in preghiera che è stato fatto io 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 io